Un avvicendamento che doveva avvenire entro il 2009, che invece è stato anticipato dagli eventi, dai fatti, da che cosa? È stato anticipato dalla necessità di traguardare quelli che sono gli interessi della banca, gli interessi del dottor Tagliaferro e quindi consensualmente si è deciso che era meglio anticipare l'avvicendamento, peraltro già previsto in passato. Una scelta comunque fatta in tempi brevissimi, addirittura nell'arco di poco più di 24 ore. La scelta dell'avvicendamento è avvenuta in tempi molto brevi, è chiaro a seguito di discussioni, di confronti con Tagliaferro fatti nei giorni precedenti e che poi la successione sia stata immediata, l'ho già spiegato perché era già stato individuato in banca il dottor Mariani come l'ideale successore di Tagliaferro alla direzione generale. Quindi un perseguimento della nuova strategia che guarda della banca e che guarda a che cosa? La strategia della banca è sempre la stessa, restare banca autonoma di territorio e del territorio. Ovviamente questa strategia deve essere supportata dagli azionisti e per questo che siccome il piano industriale prevedeva uno sviluppo abbastanza sostenuto della banca nel territorio di riferimento con un irrobostimento delle strutture questo piano bisogna portarlo avanti con velocità ma occorre patrimonio. Quindi è chiaro che accanto all'operatività della banca in questo senso occorre attivare delle strategie da parte dei nostri azionisti di riferimento che riescano a patrimonializzare il giusto la banca per sostenere il suo piano industriale, altrimenti la banca dovrà contenere il suo sviluppo e quindi evidentemente cambiare anche qualche strategia. Ci sono obiettivi particolari su tutti? Obiettivi in che senso? Obiettivi chiaramente al di là dell'autonomia della banca? No, al momento è solo l'autonomia della banca e quindi cercare questi partner che insieme ai nostri azionisti di riferimento contribuiscano alla patrimonializzazione della banca mantenendo autonoma la banca. Questo fino adesso è il progetto e questo noi aiutiamo la fondazione a perseguire. Grazie. Grazie.